Grazie a tutti. Se la ridai lì, vai di là, scambio di là, 1-2 e finiamo identico. Ok? Cambia solo che invece di andare dall'esterno, ci mettiamo qua sulla pila branca e ascoltiamo corrado. Forza, una cosa rapida. Io! Faremo ancora il giro? Io! Pronti è? Dai, dai, qui! 2-1 qui, qui, qui buono 2-3 sì, sì, sì ok l'ho trovato anche un attimo dopo per farla parare 3-2 andiamo grande 3-2 ui, ancora la pinta si è pensato, va bene eccola di bravissimo bravo guarda qua, questa, questa ok no gol no gol guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, chiudi dai, 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 dai ecco lì ecco lì dai, carata guarda qua, guarda qua, guarda qua guarda qua, 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 guarda qua